A fine luglio, Sebastian Markzewski, 39 anni, palombaro e veterano di guerra polacco, proverà a stabilire il record d'immersione senza assistenza. Si immergerà nelle acque del lago di Garda, al porto di Tremosine, con l'obiettivo di superare i 220 metri di profondità, per poi tornare lentamente in superficie. Il primato vigente venne stabilito un anno fa nel lago di Como da Danilo Bernasconi, che in quell'occasione migliorò il precedente record fatto segnare nel 2012 da Michele Garaci, davanti a Nizza, a 212,5 metri. Nei giorni scorsi, il palombaro polacco e la delegazione al suo seguito sono stati a Limone per vedere l'appartamento, che dal 15 giugno in avanti fungerà da quartier generale per tutto il team. Ora il militare si trova in Austria, dove da qualche tempo si sta allenando presso un laghetto di montagna. Per cercare il record, Mark Zewski ha scelto il Garda, in particolare il porto di Tremosine, perché lì il fondale scende a strapiombo, e per la temperatura dell'acqua, più mite rispetto ad altri laghi. Grazie.